ben ritrovate al nostro appuntamento sul mio canale youtube con il journal terapeutico quest'anno come vedete vi faccio veramente tante proposte diverse questo è un journal l'ho chiamato terapeutico perché lavoriamo con più lentezza se vogliamo no lavoriamo con la cucitura a mano la cucitura macchina cerchiamo tutta una serie di tessuti da abbinare e quindi è forse un pochino più più dolce più lento vi ho proposto il questo diciamo così journal con surabi ma parliamo di un journal angelico quindi pensate che meraviglia rimanere con quell'energia angelica la collaborazione con barbara che di nuovo si tratta di lavorare con colori faremo sempre un journal o book come lo volete chiamare o un particolare lavoro fatto solo sulla su carte divise lo potete fare come volete ma lavoreremo di nuovo con i colori con l'energia con i con le parole quindi questo quest'anno l'ho veramente dedicato a noi in particolare a ognuna di noi quindi a me a te che sia un anno ricco veramente di esperienze ma soprattutto di energia di calore di colore di emozioni di armonia ecco io penso che quest'anno lo voglio veramente dedicare a ognuna ognuna di noi bene prima di cominciare la nuova pagina e la nuova parola o comunque tema al quale vi dovrete attenere avete fatto le pagine precedenti vi faccio vedere la mia guardate che bella che è venuta sono contentissima abbiamo lavorato sui quadrati abbiamo detto di usare un tessuto di base io userò sempre questo quindi questo particolare tessuto abbiamo detto di usare dei bottoni io ne ho usato un paio e ho lavorato quasi tutto a mano meno un piccolo particolare poi che l'ho fatto a macchina questa è un fiorellino questo è un fiorellino fatto in pelle di nuovo qui ho lavorato tutto a mano facendo un pochino in rilievo questi sono dei punti punto nodino ho ripreso quei puntini di rosso qui ho lavorato ancora a mano mi sembra veramente carinissimo devo dire sono contenta il prossimo tema preparatevi allora un colore che non vi piace tanto e degli io io quindi quelli che più o meno sappiamo fare tutti quanti ovviamente il colore di base che abbiamo scelto e che ci accompagnerà per tutto questo book di tessuto e il colore che non vi piace tanto e poi degli io io vi faccio vedere un piccolo ho appena cominciato ecco ho cominciato a mettere alcuni pezzi allora vedete che questo l'ho mantenuto c'era di là continuo anche questo fa parte sempre della stessa linea quindi lo mantengo ho aggiunto il rosa io non sono una grande amante del rosa a meno che non sia un tono di corallo oppure un rosa un po forte altrimenti veramente io il rosa pallido soprattutto proprio in genere il rosa non lo amo quindi guardate lo sforzo che ho fatto nel mettere comunque tutto questo rosa e devo dire mi piace alla fine ho già in mente tutta una serie di cosine da aggiungerci sopra e intanto vi faccio vedere questo quindi preparate il vostro tessuto che non amate molto ok preparate il vostro tessuto di base come dicevamo prima io io quanti ne volete ricamo a macchina ricamo a mano come preferite bene buon lavoro